Muglio, sono l'anziano del studio, e mi attacchiamo il studio. Il numero 39. E poi da Luca Calisto. Un po' di attenzione, la poesia è sempre la poesia. Ente culturale Puglia, Mangia Fuoco di Carovigno. Luca, che è stato il nostro speaker di questa serata, l'associazione Buonsenso. E grazie a Bici e Solidarietà, che avevo detto prima. Grazie a tutti, un applauso. Grazie. 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 Grazie.